Non ha dormito tutta la notte, ci dice a microfoni spenti. E' ancora visibilmente emozionato Alessandro Spiezia, titolare dell'omonimo negozio di ottica di Via del Babuino, nel quale ieri si è recato Papa Francesco, aveva bisogno di cambiare le lenti ad alcuni suoi vecchi occhiali. E così è andato proprio nel suo negozio. E' stata una grande emozione. Io in 48 anni di attività qui in Babuino è entrato in mondo. Non so per quale motivo, forse sarò stato fortunato, baciato dalla sorte, però avere il contatto diretto col Santo Padre è stata una cosa emozionante. Spiezia lo sapeva, era stato già avvertito qualche giorno fa dalla segreteria del Papa. A breve sarebbe dovuto andare in Vaticano con tutta la sua attrezzatura, invece ieri sera è arrivato un altro tipo di telefonata. Dall'altra parte del telefono una voce che gli diceva di tenersi pronto, che Papa Francesco a breve sarebbe arrivato nel suo piccolo negozio a due passi da Piazza del Popolo. E così è stato. Il segretario mi chiama e dice guarda Alessandro, il programma è cambiato perché il Santo Padre ha detto che vuole venire, dice voglio andare dal tuo amico ottico in Via del Babuino. Per cui ho detto qui ci facciamo il segno della croce perché sarà un'apoteosi, come è stata. E per cui niente, lui è venuto, io non ho fatto altro che come da un buon padrone di casa riceverlo e ringraziarlo della sua venuta. E niente, abbiamo parlato degli occhiali, abbiamo parlato puramente di tecnologia, non di esterica, non di occhiali, perché lui non... poi lui aveva tre o quattro pochi d'occhiali. Al che ha detto, dice Alessandro mettiamo questi occhiali e cambiamo le lenti perché non voglio spendere soldi. Santità a sua disposizione, per cui non ci mettiamo a fare... E poi prima di andare via mi fa in orecchio, Alessandro, io questi occhiali li voglio pagare. Al che io ho detto al Santo Padre, lei questi occhiali li pagherà, però li pagherà quanto io li ho pagati. Quando arriverà la fattura, io la fatturare, perché poi questi soldi io li dedicherò a una on-lustre perché non sono ricco di queste cose. Gli occhiali del Papa sono già stati spediti per il cambio delle lenti, ma per Alessandro Spiezzi a questa singolare vicenda non è ancora terminata. Dovrà incontrare Papa Francesco ancora una volta per consegnargli gli occhiali e fare tutte le regolazioni del caso. Dovrò consegnargli gli occhiali, gli occhiali perché vanno un po' sistemati, anche perché ogni tanto il padre, il padre che parla con questo famoso dito, allora vuol dire che sono un pochino lenti.